WOMAN NOX, RAILUISH, ESCO NOX BELLA A TUTTI RAGAZI, QUI VEDETA CHANNEL CON UN NUOVO VIDEO SU NANATSUNO TAISAI Siamo parecchio vicini ai 50.000 iscritti, quindi questa settimana aspettatevi una mini live giusto per chiarire qualcosa Non vi dico nient'altro Oggi però siamo qui per parlare dei Santi Cavalieri o Cavalieri Sacri direttamente dalla serie Vi avviso già da ora che sono presenti degli spoiler, quindi state attenti Ma detto questo e chiudendola subito possiamo anche cominciare I Santi Cavalieri sono i più potenti cavalieri della Britannia, definiti eroi i quali proteggono il regno Sono un gruppo di individui terrificanti, con ciascuno in grado di eguagliare l'esercito di un intero paese In forza e potere, possedendo una magia che trascende la conoscenza umana impregnata nei loro corpi In Britannia ci sono ordini di Cavalieri Santi nei regni di Liones, Danafor, prima della distruzione, Edimburgo e Camelot I protettori del regno di Liones si prepararono per la Guerra Santa Guidata dai grandi usurpatori dei Cavalieri che sentivano che la benevolenza del re sarebbe stata la distruzione del regno I Cavalieri Sacri si dividono in più categorie, vediamoli insieme Partendo dal basso verso l'alto abbiamo gli Apprendisti, i quali vorrebbero diventare Cavalieri Sacri Come suggerisce il nome, sono Apprendisti e discepoli degli stessi Cavalieri esistenti I quali sono in formazione per diventare, appunto, esperti e qualificati Sono abbastanza potenti rispetto a un Cavaliere normale, ai quali hanno autorità da comandare Ma sono anche molto più deboli di un Cavaliere Sacro Facendo alcuni nomi famosi troviamo Twigo e Gerico Passando alla seconda categoria, i Weird Fems, letteralmente Artigli Strani Un gruppo di Cavalieri di Liones, guardiani della prigione di Baste Vi fanno parte Golgius, Iude, Ruin e Friesia Passiamo quindi alla terza categoria, i Town Roar Sono Cavalieri Sacri di Liones, nati al posto dei Sette Peccati Capitali In totale sono 5, Slader, Hugo, Gillian, Simon e Weignit Ogni Cavaliere è contrassegnato da un rango Rispettivamente Rubino, Smeraldo, Zaffiro, Diamante e Platino Ora vediamo le Pleiadi del Cielo Azzurro Quest'ordine è fondato dal Sacro Denzel di Liones Non pensate che il loro livello di potenza sia altissimo Anche perché parliamo di una scala da 1 a 2.000 Quindi nulla di che I membri onorari del gruppo di Cavalieri sono Deathbears, Dogedo, Wailo, Deldry e Arden Ognuno di questi Cavalieri possiede un'abilità speciale Citandone una famosa la Love Drive di Deldry Come suggerisce il nome, con un bacio, essa riuscirà ad avere piena devozione dal soggetto Sotto il suo incantesimo Qui una precisazione sul rango dei vari Cavalieri Sacri Esempio Se uno come Slader ha un rango Diamante Significa che possiede un livello più alto anche di un membro delle Pleiadi del Cielo Azzurro Per citarne uno, Arden Dopo spiegheremo anche questo piccolo pezzetto Ma ora passiamo alla quarta categoria Dove troviamo appunto i Cavalieri Sacri È un titolo dato a Cavalieri Affermati I quali possiedono una grande forza La quale guaglia quella di un esercito Hanno il comando sui normali Cavalieri I quali addestrano apprendisti Per diventare appunto dei Cavalieri Santi A tutti gli effetti Tutti sono impregnati di poteri straordinari Come le abilità Lampo di Giltander E le abilità Esplosive di Ghila Vi sono dei titoli anche all'interno del Cerchio dei Cavalieri Sacri Questi titoli sono, dal più alto al più basso Giltander, Gryamor, Hauser Ma anche Elbram e Ghila Dopo i Cavalieri Sacri troviamo i Cardinali Ovvero personaggi come Elbram I Cardinali servono direttamente sotto i grandi Cavalieri Santi E fungono da loro assistenti Potrebbero non essere necessariamente più forti dei Cavalieri Sacri Classificati anche come Diamante E alcuni Cardinali sono in realtà vecchi Cavalieri e Maghi Successivamente troviamo il Gran Santo Cavaliere Assistente E un titolo posseduto dal fratello del re e capitano delle Pleiadi del Cielo Azzurro Denzel Lyones Infine troviamo il Gran Sacro Cavaliere Ovviamente Sacro e Santo lo alterniamo per non essere ripetitivi Sia chiaro In questa categoria vi sono Dreyfus, Hendricksen e Zarathras Sono i più potenti tra i Cavalieri Santi E possiedono le autorità di comandare su di loro Diventando così i capi dei Cavalieri stessi Ciò diede ai precedenti Gran Cavalieri Sacri Dreyfus Hendricksen Il comando su tutto il paese Dopo il colpo di Stato L'attuale Gran Cavaliere Sacro è Hauser I Cavalieri ovviamente non si trovano solo nel Regno di Lyones Ma li troviamo anche nel Regno di Camelot I Cavalieri di Camelot Proteggevano il loro regno e il loro re Arthur Pendragon Con le loro vite e il loro coraggio Aiutarono in difesa di Camelot dagli Albion E in seguito contro Galand dei Dieci Comandamenti Ma subirono gravi perdite Parliamo ora dei Cavalieri di Edimburgo Ovvero personaggi come Doni I nobili Cavalieri di Edimburgo difesero il loro regno con onore e vita Ma tutti furono spazzati via dal clan dei Vampiri Recentemente liberati dal loro sigillo O massacrati o convertiti in vampiri per l'esercito del loro re Conquistando quindi il Castello di Edimburgo In preparazione per soggiocare la Britannia sotto il loro dominio Sono stati tutti poi uccisi dai sette peccati capitali In una battaglia epica Finiamo quindi con i Cavalieri di Danafor I fedeli Cavalieri di Danafor difesero il loro regno fino alla morte Ma tragicamente davanti alla potenza del demone Frodrin Membro dei Dieci Comandamenti Persero il loro regno Ma non direttamente a causa sua L'intera Danafor venne spazzata via a causa dell'ira del peccato del drago I pochi ritardatari hanno combattuto nel nome di Danafor Ma alla fine si sono persi senza più ritrovare la loro patria Chiudendo vi posso dire che ovviamente anche i sette peccati capitali Sono considerati Cavalieri di Lyones Ma sono una categoria a parte Come le Pleiadi Ebbene ragazzi il video finisce qui Spero vi sia piaciuto Noi ci vediamo con il prossimo per continuare il format dei vari ranghi Lasciate quindi un totale di 2000 like qua sotto Ma vi invito anche a commentare, iscrivervi al canale, al secondo, attivare la campanella se non l'avete fatto E seguimi su Facebook e Instagram In descrizione trovate anche tutti i link per One Piece Legacy e tutto quello che vi serve Siete invitati alla live per lo speciale dei 50.000 iscritti Mi raccomando, non mancate Un saluto da Vedata Channel Ciao